Buongiorno a tutti, sono Corrado, il titolare della pizzeria-ristorante I Dissonanti a Modena in via Berengario e oggi siamo qui con la Gazzetta di Modena per presentare una delle nostre specialità, la pizza, in particolare la pizza fatta con lo sfusato amalfitano, un tipico limone della costina amalfitana, prerogativa della nostra zona e siamo lieti di presentare questo particolare tipo di limone messo sulla pizza. Oggi andremo a fare la pizza, la nostra sfusata con il nostro impasto integrale, che è quella che più si addice al nostro sfusato amalfitano. Andiamo a prendere la nostra pallina lievitata più di 48 ore, farina integrale, quindi da come si vede l'idratazione del nostro impasto è superiore al 60%, quindi tra il 60 e il centra di idratazione. La base mettiamo un fior di latte, quindi latte solamente italiano fresco e la nostra provola proveniente dal nostro paese di Tramonti, prodotto dal caseificio vitagliano Maurizio. Conferisce alla pizza un profumo di affumicato molto intenso e si sposa benissimo con poi vedremo con il nostro limone sfusato amalfitano. Andiamo a infornare, la cottura, di circa due minuti, 320-330 gradi. Pizza sfornata, quindi ancora calda, prosciutto crudo Parma, 24 mesi di stagionatura, ancora abbastanza tenero, sfusato come si può guardare, caratteristica, molta polpa, quindi si può affettare, pochissimo sugo. Giro di olio extravergine di oliva, dei colli di Salerno e la pizza è servita. È stato un piacere oggi essere stati qui con la Gazzetta di Modena. La nostra pizza è questa qua e vi aspettiamo a tutti per domicilio e l'asporto per adesso, quindi in via Perengario 120 e poi anche a venirsi a gustare una pizza seduti da noi quando si potrà. Speriamo presto. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao.